Perchè siete qui oggi? Vogliamo dirlo a tutti, chi ancora non lo sapesse. Perchè siamo qui per difendere i diritti dei gay, vogliamo anche il matrimonio ugualitario per tutti. Pensiamo anche ai bambini che ora non hanno ancora un diritto, quelli delle famiglie Arcobaleno. Anche è vero che abbiamo avuto questi diritti che non sono ancora passati al Parlamento, siamo mezzo contento diciamo. Diciamo che in questo momento è anche un po' una mezza vittoria perché ci sono le famiglie Arcobaleno qua in questo momento a manifestare l'esistenza dei loro figli perché i bambini sono tutti uguali e le famiglie sono tutti uguali. Certo sì, una mezza vittoria nel senso che, perché? Perché sono in piazza, però la vittoria ancora non ce l'abbiamo, nel senso che in Senato è passata, la Camera non è ancora passata e vediamo come sarà ancora manipolato eventualmente questo disegno di legge, se sarà cambiato. E comunque per le famiglie Arcobaleno la vittoria purtroppo non c'è. Pensiamo più per questo. Benissimo